22 anni di torneo Green Ball, 22 anni di passione e solidarietà. Tra sabato e domenica a Irrighe, in comune di Chiesdal Pago, si consuma una tradizione ormai consolidata che coinvolge i ragazzi della Conca, ma non solo. Partite di calcetto 3 contro 3 in ricordo di un vecchio amico e, da un anno a questa parte, caratterizzate da un risvolto solidale e uno scopo benefico. Prima si svolgeva sul prato, sul campo di calcio di Chiesdal Pago, da là si è spostato sulla piattaforma sempre di Chiesdal Pago adiacente al campo e da 7-8 anni si svolge invece qui in località Irrighe. I partecipanti sono tutti ragazzi qua della Conca dell'Alpago, chi magari della provincia, da Ponte, da Belluno, magari anche delle valli, sono stati anni che sono venuti i ragazzi della Val Zoldana, del Cadore o della Gordino e comunque sì, è un torneo che raggruppa un po' tutta la provincia diciamo. E anche in questa edizione continua la collaborazione con il team padovano che si occupa di bambini e famiglie in difficoltà. Tifol Cidre, lo dice il nome stesso, si occupa di bambini e Padova e non solo, praticamente lavoriamo anche all'estero e si occupiamo di bambini e delle loro famiglie e anche qualche progetto per la ricerca. Questi ragazzi sono meravigliosi, li abbiamo conosciuti un anno fa, un po' prima di un anno fa e hanno praticamente portato avanti la nostra causa a 360 gradi e abbiamo fatto un gemellaggio veramente molto forte e oggi siamo qui ospiti per vedere la loro lealtà in questo contesto meraviglioso. Abbiamo visitato la loro sede, abbiamo visitato il loro ospedale, abbiamo visto come lavorano e sono delle persone in gamba, volontari che mettono l'anima, il cuore in tutto quello che fanno.